sono molto contenta di avere qui con noi Giorgia oggi che ha un sacco di belle cose da raccontarci allora intanto Giorgia benvenuta e grazie di essere qui con noi grazie a te Patti chi sei cosa fai la no Giorgia è una madre di famiglia un'artista attualmente è in fase di crescita quindi di riscoperta di se stessa Giorgia come stavi prima di iniziare questo cammino che stiamo facendo insieme avevo proprio una grande insoddisfazione mia mi sentivo come se mi mancasse qualcosa nel lavoro non riuscivo mi sentivo sempre insoddisfatta e mi sentivo un po smarrita non avevo chiaro cos'è che mi rende insoddisfatta e lì ho detto no ok Giorgia qui ci sta qualcosa che è evidente che non va andiamo a vedere come si può risolvere grazie all'aiuto di Patrizia tu non hai ancora completato il tuo percorso ma ti chiedo già che cosa è cambiato ci sono due aspetti fondamentali che sono cambiati nella mia vita uno proprio fisico io soffrivo tantissimo di mal di testa in maniera limitante mi devo proprio chiudere in camera stavo male per tre giorni nonostante prendessi medicina e questo mal di testa non passava e ne soffrivo veramente frequentemente anche o meno una volta settimana invece durante il percorso ma già nelle primissime settimane ho incominciato a diminuire il mal di testa adesso è raro che mi arrivino sono in forma più lieve e questo già per me è uno dei grandi risultati a livello fisico è proprio evidente io da anni mi soffrivo da quando ho cominciato a lavorare su me stessa e a sbloccare determinate situazioni anche a livello fisico ho avuto giovane altra grande cambiamento è ritrovare la nuova Giorgia Giorgia si è finalmente ritrovata ha trovato quel pezzettino che gli mancava adesso si sente piena nonostante sia felice ci sono ancora delle piccole cose che voglio cioè quando quando ottieni i risultati vorresti sempre di più no dici no adesso non posso tornare indietro cioè ha scoperto la diva in connessione anche a livello professionale ho deciso di portare avanti quello che forse io già sapevo sempre saputo in fondo al policino che avevo sempre accantonato cioè fare l'artista però l'artista è un po visto come una persona che non guadagna non è facile e quindi la parte razionale dei giorni cioè no devi fare un lavoro che ti porta i soldi guadagni vivi sopravvivi paghi le bollette tutto il resto però poi in fondo c'era la Giorgia estrosa e creativa che diceva no Giorgia però questa cosa mi piace un sacco dai 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 continuiamo a fare le creatrici di cose belle e questo era il grosso conflitto effettivamente che un rio fra dover sopravvivere e il dover essere e quando ho capito che nel momento in cui riesco a essere quello che sono si aprono delle opportunità dei campi che prima non avrei neanche immaginato dico ok quanto è bello essere Giorgia vuoi farci un esempio pratico cosa è cambiato prima lavoravo esclusivamente con l'idea di dover creare qualcosa da vendere quindi sostanzialmente mi veniva un'idea che però poi dovevo adattare a una tipologia di prodotto di cliente che secondo la mia visione era il cliente che poteva comprare un oggetto ma erano come se fossero senza anima oppure anche lì c'era qualcosa che non funzionava infatti le poche volte io realizzavo qualcosa per me per il gusto di farlo erano quelli che avevano poi maggior successo e quindi ho ricominciato a fare i lavori che mi piacciono a senza l'idea che siano vendibili semplicemente Giorgia ha un'ispirazione un'intenzione qualcosa che vuole esprimere la esprime e intanto qualcuno sa che coglierà quella bellezza quindi è proprio cambiato la modalità di lavorare il lavoro con serenità con gioia col piacere di farlo mi sveglio la mattina e sono felice questo progetto artistico è nato dalla visione di un fungo in un bosco sono stata illuminata da questo fungo particolarissimo e ho detto caspita questo fungo deve essere una scultura da lì sono nate altre informazioni mi sono arrivati dei sogni e ho capito questo progetto non era legato esclusivamente a Giorgia è legato a tutte le persone che hanno voglia ancora di sognare di credere nell'idea che le cose che da piccolo ci meravigliavano ci stupivano ci facciano dire wow che bella questa cosa la sensazione lì noi ce l'abbiamo dentro l'abbiamo nascosta io adesso quando realizzo i miei prodotti artistici la mia arte vibro in quella maniera vibro come un bambino che dice wow sta scoprendo un mondo che bello esiste lo posso realizzare cioè se lo vedo lo posso realizzare come io sento questa emozione immagino che altre persone sono state bambine o magari sono grandi come me ma hanno questa luce nella onda di vedere qualcosa che li meraviglia in aspettato di totalmente nuovo se io ho questo desiderio probabilmente anche altre persone potrebbero avere questo desiderio di riscoprire il sogno che è nascosto in loro ho detto perché non realizzare una struttura così grande così immensa dove tutte le persone possono accedere e possono un po' rivivere quel momento no quell'attimo sospeso di wow che bello allora i sogni si possono realizzare e quindi adesso sto lavorando in questo fronte sono aperti dei campi interessanti anche di contatti di persone che potrebbero essere interessate a sviluppare questo progetto non sarà un'installazione realizzata in un unico punto ma viene concepita come vari punti in cui le persone stando al loro interno si possono connettere fra di loro quindi sapere che ci sta questa mega installazione a roma piuttosto che a londra piuttosto che a singapore piuttosto che in qualsiasi altro posto ti trovi dentro e sai che lì con le stesse stante ci potrebbe essere qualcuno che come te si sta dando l'opportunità di sognare è vero che comunque l'impegno è necessario e bisogna anche desiderare il cambiamento bisogna mettersi in gioco anche in maniera scongoda perché anche per me uscire come artista che fa un'installazione la vedo come un punto di interconnessione quindi cominci a parlare un linguaggio che non è capito e compreso da tutti e a me mi hanno dato un po' della pazza in alcuni contesti prima un po' mi dispiaceva adesso mi rendo conto che non è neanche più un mio problema semplicemente io manifesto il mio sogno e il mio sogno è il mio desiderio è Giorgia nessuno mi può dire che io sono sbagliato o giusta Giorgia è Giorgia il mio progetto il mio progetto il mio sogno è il mio sogno non può essere sbagliato è il mio se no era il sogno di qualcun altro una cosa bellissima che detto prima è proprio il fatto che tu ti svegli al mattino felice che è una cosa che penso possa essere nei sogni di tantissime persone io continuo a sorridere perché veramente mi sento bene sono felice ed è una sensazione che voglio continuare a scegliere di avere ogni giorno della mia vita perché ogni giorno io sto scegliendo di essere felice di seguire i miei progetti di seguire quello che il mio cuore mi sta dicendo in quel momento seguo quello che mi fa star bene ne vale la pena o non ne vale la pena di impegnarsi quanto tu ti sei impegnata e quanto ancora ti sta impegnando il mio sorriso parla assolutamente sì 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 100 milioni di volte sì io credo che non ci siano parole non è neanche quantificabile il valore e il ritorno che tu hai dietro perché è enorme bisogna mettersi in gioco quello sì bisogna lavorare sì assolutamente patrizia ti aiuta è anche assolutamente responsabilità nostra decidere di effettuare il cambiamento e poi ti voglio dire un'altra cosa che io ho reputato importantissima nel percorso che sto ancora facendo è le relazioni che costruisce gli altri compagni di viaggio e quando ti rendi conto ed entri in contatto con persone diverse ma anche molto simili ti confronti e ti rendi conto che non sei solo ti rendi conto che dici ah ma allora questo problema non ce l'ho solo io cresci insieme agli altri quel problema che tu pensi era solo tuo diventa collettivo ma si risolve anche in maniera collettiva ci si supporta quindi anche questo aspetto è assolutamente fondamentale l'interconnessione che si crea con tutti gli altri e non sentirsi più soli non c'era più giorgia giorgia era mamma giorgia era moglie e giorgia non c'era c'era qualcos'altro e invece bastando veramente prendere il coraggio nel momento in cui tu prendi il coraggio e stai se non il tuo cuore la tua aspirazione i tuoi desideri vai sì magari può essere un piccolo periodo però poi alla fine già come dicevo prima vale assolutamente la pena di essere giocato anche il messaggio del progetto che stavo portando avanti di cui parlavo prima comunica il fatto che in realtà se crediamo di poter cambiare le cose crediamo che possiamo migliorare la nostra vita è possibile è veramente possibile se ci credi se veramente ti ascolti e non ti ascolti in base a quello che viene da fuori dalle contaminazioni di chi hai intorno della società di quello che ti viene insegnato fin da quando sei bambino e ti rendi conto che se tu invece smetti di sentire tutte queste informazioni che vengono dal di fuori di te ti rendi conto che veramente ascoltandoti e sentendo chi sei veramente i sogni si avverano i risultati si ottengono la vita cambia un giorno patrizio mi dice giorgia guarda c'è questo atto magico per te vai devi inviare dieci mail a dei comuni decidi tu dove sparsi del mondo dove vuoi e propone il tuo progetto artistico ho avuto un momento di gello e dico ok progetto artistico i mail inviare io là già che partivo devo fare una presentazione mega galattica con le foto e il video che si muove non sapevo chi chiamo chi non chiamo ottergi versato credo tre mesi prima di fare questo atto che per me era l'atto magico della vita cioè magari se tu mi dici buttati con un deltaplano io l'avrei fatto senza problemi però quello mandare dieci mail spiegando il mio progetto cioè quindi esponendo giorgia per me era irraggiungibile ora come farci cercavo questa perfezione di dover mandare l'email perfetta della vita e poi invece durante il cammino di santiago ma guarda manda un email così giusto male che avanti rispondono ma devo queste email come se mi si fosse sbloccato un mondo cioè mi è bastato veramente un attimo a dire che cosa potrà mai succedere se mando un email male che va rispondono e quindi quando mi ha dato questo piccolo input a me mi si è aperto il mondo del possibilismo ho detto ok che ho fatto rimando no mi sono messa lì sul muretto durante il cammino di santiago mi sono fermato due secondi ho mandato l'email a un museo in roma che mi piace molto non mi hanno mai risposto ma devo dire che mi sento bene perché io comunque nel momento in cui l'ho mandata tutta quell'ansia quella frustrazione dicevo no vabbè ma poi penso che sa che non è scritto bene non è fatto mi è sparita nell'immediato e anche se non è arrivata una risposta a queste email che ho inviato ho capito che non è una non risposta mi farà fermare ma semplicemente ho capito che bisogna andare e tentare andare e tentare andare e tentare semplicemente seguendo quello che sento che devo fare io mi immaginavo che le persone si potessero connettere solo al momento in cui questa installazione verrà realizzata in realtà mi sono resa conto che semplicemente pubblicando un post in cui raccontavo e nominavo questo progetto ho avuto in risposta delle persone che non mi sarei mai aspettata e mi hanno anche ringraziato perché le avevo fatto accendere il desiderio la voglia di tentare di provarci infatti questa ragazza ha ricominciato anche lei da poco a dipingere mi ha detto ti ringrazio perché questa chiamata con te mi ha ridato il desiderio di portare avanti il mio essere artista ti ringrazio perché perché adesso continuerò a seguire il mio sogno e io pensavo che dovevo realizzare la scultura per far capire alle persone questo invece è bastato semplicemente comunicarlo e quindi sono super contenta di questo cosa potrà comportare nel tuo futuro maggiore serenità di quella che già sto provando perché nel momento in cui mi sento in pace con me stessa mi rendo conto che è come se tu vedi tutto possibile non vedo solo una giorgia che si è ritrovata vedo qualcosa di più grande quindi quando tu vedi che se cambi tu di conseguenza anche le persone che stanno intorno a te è come se prendessero con l'energia e la vibrazione è diventa una cosa universale questa cosa mi piace tantissimo penso proprio di sì e penso soprattutto che si veda perché sprizzi energia e luce da tutti i pori ed è veramente bello vederti così ti ringrazio tantissimo e ti chiedo ancora fai un messaggio da lanciare alle persone che ti guarderanno ovviamente non smettete di sognare e credere in quello che siete non chiudete il vostro essere in una scatolina continuate a sognare riaccendete il desiderio di qualcosa che volete realizzare non avete realizzato e si può fare a me è già avvenuto è fantastico no questo io lo chiamo la scintilla il vivere quando tu accendi la scintilla stai vivendo riprendetevi la scintilla riaccendete quella scintilla ce l'avete dentro ce l'abbiamo dentro non dobbiamo solo riaccendere sono sicura che ispirerai tantissime persone e che grazie a te tante persone si permetteranno di ricominciare a sognare grazie a te patrizia grazie veramente tanto tanto grazie